Un uomo ha rischiato il trapianto di fegato, due donne sono finite in ospedale, una in rianimazione, l'altra in osservazione. Una bambina è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso pediatrico e sono solo i casi delle ultime settimane nel Padovano. Parliamo di funghi che possono rivelarsi, se non killer, estremamente pericolosi per la salute di chi non li conosce alla perfezione. L'SOS arriva dall'ispettorato micologico dell'Ulss 6 Euganea, locato in due, presso il mercato agroalimentare di Padova in corso Stati Uniti 50 e presso il Dipartimento di Prevenzione di Campo San Piero in via Cao del Mondo numero 1. Qui tutti i ricercatori privati possono far controllare gratuitamente i funghi raccolti. Inoltre i micologi effettuano nella stagione autunnale un servizio di reperibilità attivo 24 ore al giorno. Nell'anno in corso sono state effettuate circa 400 peritazioni di funghi per i privati e controllati per i grossisti 28.000 chili di funghi spontanei destinati al commercio. La raccolta al consumo dei funghi, spiega la dottoressa Stefania Tessari, direttore del Sianna Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Ulss 6 Euganea, appartengono alla nostra tradizione. Oggi, come in passato, si può morire avvelenati da funghi. La conoscenza e l'applicazione di pochi e semplici consigli consentirà il loro consumo sicuro. È di primaria importanza non consumare mai funghi che non siano stati controllati da un professionista.